Cinghiali, lupi, cervi, caprioli, addirittura le linci sono questi i grandi mammiferi che sono tornati in Abruzzo e in particolare nella riserva naturale regionale Castelcerreto a Penna Sant'Andrea di Teramo. Il futuro che si prospetta è dunque quello di una convivenza possibile ed è anche il tema di un incontro organizzato nella sala polifunzionale di Penna Sant'Andrea con Franco Tassi. L'iniziativa viene realizzata in collaborazione con il Centro Studi per l'Ecologia e la Biodiversità degli Appennini. Dove è ubicata esattamente la riserva di Penna Sant'Andrea e quali paesi e borghi comprende? Allora, la riserva naturale regionale Castelcerreto si trova in Contrada Pilone, una frazione del comune di Penna Sant'Andrea, è tutta ricompresa nel comune di Penna Sant'Andrea, ha un'estensione di 142 ettari. Si tratta essenzialmente di un bosco, quello che rimane di un antico bosco che conserva tantissime specie vegetali e anche animali. Che animali ci sono? Ci sono tanti animali, è proprio di questo che noi parleremo nel convegno che facciamo domenica, perché ultimamente sul nostro territorio sono tornati anche degli animali che non erano più presenti, come i cervi, i caprioli. Vabbè, i cinghiali ormai è tanto che sono tornati e rappresentano già un problema. A seguire questi animali ci sono i predatori, quindi anche il lupo comincia a essere una presenza occasionale ma non abbastanza frequente del nostro territorio. Noi domenica parleremo proprio di questo e lo faremo con Franco Tassi. Presenterà un libro nuovo, inedito, sulla presenza della lince, un animale, un mammifero misterioso perché si vede pochissimo, la presenza della lince in Abruzzo con dei documenti, ripeto, inediti. Allora i turisti che verranno nella vostra riserva potranno vedere caprioli, cervi e lince? Allora, i cervi li vedranno sicuramente perché noi abbiamo un'area faunistica dove ci sono dei cervi in semi-cattività, diciamo, però si vedono abbastanza frequentemente. Poi gli altri incontri sono occasionali, però sono anche incontri frequenti, ci sono incontri con l'istrice, un animale misterioso che era scomparso dalle nostre parti ma di cui abbiamo molti avvistamenti negli ultimi tempi.